Dall'opposizione PD e Forza Italia presentano una mozione di sfiducia contro il ministro Toninelli se il governo blocca la TAV, a verte Tajani pronti a raccogliere le firme per un referendum. Francesco Maesano. Le opposizioni presentano mozione di sfiducia contro il ministro Toninelli. Il voto in aula al Senato è previsto per il 21 marzo. Dal PD Zingaretti e Gentiloni incalzano il governo sulla TAV per il segretario Dem. Questa maggioranza ci sta rendendo ridicoli e paghiamo un costo enorme come sistema paese. L'Italia si è isolata, è in difficoltà economiche, ha cambiato addirittura il suo profilo a livello internazionale. Quindi il lavoro del PD, sull'onda anche della grande partecipazione alle primarie, è quello di costruire un'alternativa credibile a questo governo. Gli ex premier Prodi e Letta applaudono l'elezione di Zingaretti, c'è stata la riscossa. Ora si può chiudere con il passato, rilancia il professore, mentre Letta annuncia che dopo cinque anni riprenderà la tessera del PD. Per Forza Italia lo stop alla Torino-Lione sarebbe contro l'interesse nazionale e Tajani ribadisce che il partito sta pensando di intraprendere la strada del referendum. Comunque vada, dovrà piegare la testa o la Lega o dovrà piegare la testa il Movimento 5 Stelle. L'unico vero grande sconfitto sarà il nostro paese, saranno 60 milioni di cittadini italiani che non avranno un'opera infrastrutturale che li collegherà al resto d'Europa. Ogni rivie è un danno per Fratelli d'Italia e il governo decida se puntare sullo sviluppo o arrendersi alla decrescita. La non costruzione di quest'opera cancella la possibilità dell'Italia di essere presente di fatto sulla rete del commercio europeo per i prossimi decenni. Vuol dire condannare l'Italia al terzo mondo. Grazie a tutti.